ehi la amici io sono nikki draven e benvenuti nel mio canale dove parliamo di arte e introspezione oggi vi presento un'opera che chi mi segue ha già visto sul mio instagram e si intitola in un mondo di ragni la farfalla si vergogna di saper volare titolo lunghissimo che fa molto canzone emo 2006 e ci piace per questo questo artwork nasce da una dark poetry che potete leggere sul mio patreon gratuitamente basta abbonarsi col piano gratuito nella mia pagina e accederete ai contenuti gratuiti ma se siete pazienti di stare con me sin alla fine la leggerò per voi mentre che vediamo come ho realizzato questo dipinto vi parlerò di una dinamica che praticamente tutti viviamo e subiamo ovvero la nostra mania di perfezione non ne sappiamo niente vero non è un argomento dissonante al tema e quando ascolterete la dark poetry capirete che sono intimamente legati andiamo al dunque avete notato come su youtube a parte qualche eccezione la maggior parte dei video si ha focalizzato sul migliorarci ognuno ti offre un servizio su come migliorare quella determinata skill quella determinata cosa di noi anche su questo canale trovate dei tutorial quindi nessuna condanna io non sono contro nessuno o contro questi contenuti ma vorrei invitarvi a notare questa cosa dalla quale tutti siamo schiavi l'essere umano addormentato è incapace di stare nell'adesso e di vedere la perfezione in ciò che è al contrario ci identifichiamo con molta facilità col nostro fare il fare però viaggia su una linea di confronto ed è sempre in gara il mio fare non ha mai un momento di riposo poiché la competizione ci ricorda che se non stiamo allerta qualcuno ci supererà impegnandosi più di noi magari minacciando la nostra sicurezza questa insoddisfazione è un veleno ed una droga ed è alimentata dalla mente che ci ricorda che non siamo abbastanza bravi competenti che non siamo ancora all'altezza che dobbiamo sfinirci fino al burnout per rimanere in lizza per il successo lavoro famiglia relazioni hobby sport ogni area della nostra vita intossicata dalla nostra falsa credenza di non valere abbastanza perché per l'appunto ci misuriamo col nostro fare quest'ultimo anno ho avuto la gioia e benedizione di vivere dei momenti di profondo tormento buio la depressione è stata così intensa da farmi chiudere sempre di più me stessa costringendomi di fatto ad affrontarmi dato che anche fare semplici uscite e distrazioni è diventato molto difficile è tutta la vita che rincorro la perfezione fisica psicologica emotiva artistica relazionare c'è sempre una meta all'orizzonte che se raggiungerò mi renderà migliore o meglio c'era è da qualche tempo infatti che inizio a vedere le cose in maniera diversa scorro su youtube e vi vedo la frenesia di creare il tutorial perfetto di come gli artisti ma tutte le categorie in realtà si sperticano per attirare l'attenzione su di sé nel creare il contenuto più bello accattivante utile o scioccante diverso originale ricordo la pressione che questa cosa esercitava su di me spingendomi a ricercare ad un gradino più in là più in alto di quello in cui ero la mia soddisfazione ma tanto quando lo raggiungi ti rendi conto di essere indietro rispetto a chi è a qualche gradino sopra di te allora ecco di nuovo ti metti a correre e li raggiungi eccomi finalmente col fiatone alzi lo sguardo e c'è qualcuno davanti a te più bravo più divertente più bello più ricco più di successo non mi godo più il raggiungimento di quella meta perché sulla scala della competizione il traguardo è irraggiungibile riesce a vedere questa cosa nella tua vita i doni di questo mio ultimo anno difficile sono stati molti quello che al momento riconosco come più di valore è proprio farmi entrare nel momento presente farmi chiedere davvero che cosa voglio lasciare indietro ciò che non voglio fare anche se risulterebbe incomprensibile o potrebbe non piacere agli altri e questo io l'ho raggiunto solo grazie alla mia ansia gli attacchi di panico perché ormai sono diventati il mio indicatore di quando non voglio fare qualcosa quando tu perdi così tanto il contatto con te stesso per i più disperati motivi personali non ti ascolti non sai più cosa vuoi perché è più importante no il magari soddisfare gli altri fare quello che si aspettano da te e quindi tu in qualche modo stai stai tradendo te stesso e quindi la mia anima ha trovato questo escamuta per me così poi gli altri avranno i loro modi dell'ansia dell'attacco di panico della depressione quando siccome io non ho mai creduto che queste cose fossero casuali o me ne dovessi sbarazzare io mi ci sono seduta e ho chiesto benissimo anzi anche cosa mi devi raccontare cosa mi sta insegnando che non sei qui per tormentarmi questo per me è sempre stato molto chiaro e alla fine quando io sono stata pronta per ricevere la risposta io ho avuto la forza anche di agire nel fare ciò che era necessario per in qualche maniera capire quello che queste difficoltà mi stavano portando io ho trovato una dimensionalità di me stessa che non mi fa più paura e non ho più paura di di dire o fare quello che devo per seguire la mia natura e solo quando sono stata pronta quest'ansia mi ha parlato mi è arrivato proprio il motivo per il quale avevo determinati episodi ero pronta e quindi diciamo che si sono aperte magari quelle 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 porte che hanno permesso a certe risposte di arrivarti e un altro di questi doni è stato ad esempio la leggerezza e l'ho visto nelle mie ultime opere come ad esempio quella della tigre e questo che state vedendo non me ne fregava di meno di farlo perfetto infatti vedrete un sacco di difetti non avevo la pressione di sbagliare che potesse non piacere c'era solo la il piacere di giocare con i qualori come giocano i bambini senza aspettarsi che il loro disegno sia da primo premio ho realizzato come non sia l'esecuzione perfetta a renderti migliore a far sì che comprino le tue opere e se anche arrivasse il successo quanto mi sarebbe costato tenere con l'attenzione a scapito del divertimento dalla gioia di dipingere questo non implica che non ci si impegni più ma parlo di aspettative competizione e confronto come fare però per sbarazzarsene e qui l'inganno allora ecco tanti video che spiegano alle persone come superare combattere questi atteggiamenti da tipico uomo del ventunesimo secolo non lo vedi non sei qui non sei in ciò che sei e così come migliorare le tue skill artistiche ora vuoi raffinare anche il tuo lato competitivo per sbarazzartene o lato perfezionistico insomma metici quella quella che è la tua dinamica e così finalmente sarai più felice ti godrai finalmente questo percorso artistico balle stai solo reprimendo e spingendo sotto l'acqua questo pallone che prima o poi schizzerà fuori come un missile colpendoti in piena faccia e così magari sei più forte di altri e riesci a tenerlo sott'acqua per qualche decina d'anni come ho fatto io ma poi le braccia ti si stancheranno e quando succederà ciò che è il represso ti schiaffeggerà così forte da capotarti ed io ringrazio tutti i giorni che sia accaduto non c'è nulla di cui tu ti debba sbarazzare devi solo esserne consapevole vedi quelle parti di te e accoglile senza volerle scacciare via non puoi farlo riconoscile e comprendile ti sono servite sino ad ora grazie a quelle manie di perfezione sei diventato molto bravo a dipingere sei diventato bravo nel nuoto magari o hai un aspetto e un armadio molto curati hai un invidiabile cultura per tutti i libri che hai letto perché ti sentivi sempre troppo ignorante o stupido insomma metti quello che per te risuona queste parti di te ti hanno dato tanti doni che nessuno ti toglierà e che sono state fondamentali per costruire la tua persona vedere come dei frutti se cerchi di strapparle via dai tuoi rami quando non è ancora ora rimarranno acerbi ma se non avrai fretta è semplicemente lasci che tu sia competitivo o perfettino se vuoi va bene così non combatterlo solo stai con quella sensazione e amala perché ora è parte di te sarà la vita che la farà cadere a terra quando quel frutto sarà maturo e ti avrà dato tutto ciò che poteva darti non si cerca più di scacciare la solitudine ad esempio si smette di essere soli si fanno mille cose comunque quel vuoto non va via lo cerchi di sostituire con divertimenti o compagnie ma quando si solo eccolo che rimonta ma se tu quel vuoto lo accogli lo ami te ne innamori e non è facile ci stai assieme non ti sentirai più suo solo e nuove persone arriveranno nella tua vita perché non avrai più bisogno di essere solo grazie proprio al fatto che non cerchi più di combatterlo anche perché piccola postilla esoterica ciò che combatti tu lo stai nutrendo perché la una tua ombra siccome non l'accetti la combatti che nutrendola e combattendola questa diventa ancora più grande quindi la vita te ne manderà ancora di più perché non capisci la lezione quindi combattere qualcosa allora forza ecco questa consapevolezza ti trasforma da essere umano addormentato a essere umano consapevole non migliore non più utile non più felice ma consapevole sarà la vita la tua anima se vuoi a portarti dove ti serve ti godi il viaggio e ti assicuri che ti amano per ciò che sei davvero e se anche non piacerai e ti disprezzeranno almeno lo faranno per quello che sei che è molto meglio che essere disprezzati per la personalità che ci si è costruiti quando si accoglie senza più scacciare o combattere reprimere il bisogno di piacere agli altri prima o poi cadrà da solo e scoprirai di essere te stesso senza la paura di venire giudicato scoprirai che sei luce e ombra che sei bello e brutto affidabile e stronzo e chi ti amará vorrà tutto il pacchetto e anche tu sarai più indulgente ed amorevole con gli altri perché quando ami tutte le parti di te potrai davvero amare anche l'oscurità dell'altro il dipinto parla di questo di una persona che non si piace non si riconosce e si sente sbagliata vuole essere qualcun altro ne avevamo già parlato in quest'opera sempre con race i pezzi cuciti addosso sono le sfaccettature che rubiamo agli altri ad esempio wow che figo guarda questo mi piace com'è divertente voglio esserlo anche io così sarò più accettato avrò più amici e rubi anche quella carne morta e te l'attacchi addosso costruendo appunto un frankenstein ma sei morto non c'è vita perché hai soffocato la tua natura ritenendola inadeguata e indesiderata perché è tutto un fare del mentale c'è solo la testa lì dentro non c'è il cuore questa opera parla della stessa cosa ma mette in luce un altro aspetto che è la prigionia di queste che chiamo le stronzate di base simpaticamente di come ci si strappa le ali perché non ci piace essere farfalle volendo emulare il ragno che ci affascina con quel suo allure da bello e dannato questo dipinto è più forse rivolto a una sfera relazionale ma ognuno di noi può vedere nel ragno ciò che vuole e lasciate che l'opera parli a voi e non il contrario parla di delusione e abbattimento perché snaturandoci per piacere ai nostri ragni ci spegniamo perché poi quello che succede è che la persona che si è tanto impegnata viene pure abbandonata o mollata ed è bene che accada perché a forza di prendere cantonate alla fine forse si riesce a riprendersi le proprie ari accettando la propria natura e onorandola al ragno non piace che siamo farfalle così ci mollerà ma bene via non fa per me ci vuole coraggio per fare questo non è facile abbiamo molta paura di stare soli e perdere le persone ma se non accettiamo ciò che siamo fanno davvero per noi perché se tratteniamo queste falsità nella nostra vita non arriverà la genuità il vero amore è soprattutto importantissimo ma cosa ci lamentiamo che questi poi ci trattano come vogliono noi abbiamo mostrato genuinamente senza paure ciò che siamo io credo di no perché la paura è tanta di essere sostituiti ma in tutti i campi io parlo magari questo dipinto è strettamente collegato al relazionale ma vale per tutti i campi dove noi diciamo sì quando vorremmo dire no quando noi ci snaturiamo proprio perché abbiamo paura di perdere quei benefits che abbiamo ottenuto con grande difficoltà o che vorremmo comunque ottenere perché diciamo caspita ma se io mi fossi no spontaneo che magari bisogna vedere se tu sai come essere naturale spontaneo perché magari lo fai da tanti anni questo mascherarti tu non sai manco come fare per esserlo poi chiaramente non si può generalizzare su tutto però ci sono anche dinamiche dove uno magari è più genuino e comunque gli capitano delle cose spiacevoli ma questo non è il tema del video io mi proprio mi relazionando con chi snatura se stesso in favore di ottenere un miglioramento di migliorarsi insomma di chi nel momento attuale non si piace quindi cioè non è che quella che si rifà le labbra o le tette è diversa da quello o quella che si rifà la personalità e quindi diventa più divertente o sta ore e ore e ore imparare a dipingere rimanendo nel campo artistico per diventare più bravo c'è sempre comunque un'insoddisfazione di come sia attualmente un'incapacità di amarsi per quello che si è e quindi amare quello che è il percorso artistico la propria arte non è forse pieno youtube di video dal titolo come trovare il tuo stile io mi rifiuto categoricamente di fare mai un video del simile che punti a quella storia lì perché per me non ha alcun senso ma cosa cavolo te ne frega di trovare il tuo stile perché perché così la gente ti riconosce subito allora vedi che dietro c'è una che non c'è niente di male ma lo vedi che c'è dietro un bisogno di essere riconosciuti perché vuoi aumentare le vendite allora vedi lì dietro c'è la paura di magari non riuscire a arrivare a fine meso di voler volere che questa cosa diventi la tua il tuo lavoro e quindi di mollare magari quello che fai attualmente cioè dietro tutte queste cose c'è sempre una paura che non è un'insoddisfazione di non andare bene come sia adesso cosa te ne frega il tuo stile evangirà se deve emergere ed sarà naturale ma non devi andare a cercarlo frega a tenere balle cioè chi se ne frega trova te stesso poi quello che deve trovarti ti viene a cercare ecco a me questo piace dei miei dipinti semi real anche se tutti ah i tuoi dipinti con gli animali io non dico che li trovo vuoti ma quasi ma cioè la mia essenza sta in questi dipinti in queste in queste figure perché lì che per me l'arte mia diventa evocativa e guardando questi queste opere che ho esposte a casa mia io mi ricordo e mi rendono più consapevole perché io guardo quel quadro e penso ok in che trappola sono in quale qual è il mio ragno oggi che trappola sto cadendo dove mi sto snaturando guardando quel frankenstein che parte di me o anzi che parte altrui ho assunto ho preso mi sono messa addosso ma non mi non è mia puzza è carne morta è una cosa che mi sta allontanando la mia vera natura c'è questo deve fare per me l'arte farmi ritrovare la mia anima farmi mettere in discussione tutto c'è ciò che non è reale che fuffa per riportarmi a una dimensione di consapevolezza non è che ti sveglia non diciamoci cazzate ma ti fa fare delle domande è arte che ti fa aprire una finestra su te stesso e ti fa fare domande che difficilmente andiamo a cercarci da soli questo è un po il senso delle mie opere ed il motivo per cui sono tanto affezionata ad esse ed ora vi lascio la mia dark poetry intitolata in un mondo di ragni le fraffalle si vergognano di sapere volare il punto di vista è quello di reis la rabbia che portavo dentro era un potentissimo un estetico trovavo ogni scusa per infuocarmi incolpando chiunque fuorché a me stesso era chiassosa ed ingombrante e un ultimo occultatore di parti di noi talmente dolenti da essere rimosse dalla consapevolezza così vi è solo il vuoto quel profondo dolore esistenziale ravvivato da frequenti scoppi di risentimento per quanto cerchi di fare andare meglio le cose non ci riesci in campi sempre nelle stesse storie sempre le stesse con facce diverse sia una farfalla che non può fare altrimenti che cadere nella tela del ragno così ti arrabbi ancora di più domandandoti perché alcune persone nascono farfalle ed altri ragni ti chiudi per un po smetti di volare e con cautela ti assicuri che non vi sia alcuna ragnatela nella tua linea di volo pensi che essere una farfalla sia sbagliato la tua esistenza è maledetta cibo per aracni di senza scrupoli vorresti avere dei piedi per calpestarli renderli insignificanti come ti hanno fatto sentire loro poi un giorno capisci semplicemente lo vedi stando attento ad evitare ragnatele ti perdi e non sai più qual è la tua strada allora ti incazzi due volte perché li guardi e invidi la fermezza delle loro convinzioni la naturalezza con il quale conoscono il loro posto nel mondo e con regalità lo compiono mentre tu sei lì che ancora svolazzi in cerca di emozioni forti di un posto da chiamare casa ma le farfalle non hanno nidi e non hanno tane quella libertà ti pesa ti fa sentire un naufrago della vita disperso dal vento ed attratto solo dai fiori promesse di nettari zuccherini amarsi per quello che si è non è mai stato semplice per nessuno ma per chi condanna anche solo il proprio diritto di esistere è un'impresa titanica ogni cosa che sei e fai laudi ti alzi la mattina e semplicemente senti di non valere niente ti senti una nullità vuoto come la voragine che senti dentro cerchi di riempirla come figurante nelle storie degli altri ti illudi anche se in fondo lo sai che un ragno non potrà mai imparare niente da una farfalla nemmeno apprezzi che sei capace di volare che tu puoi guardare il mondo da una prospettiva unica mentre il ragno è condannata alla sua tela a cibarsi di cadaveri senza poter nemmeno scegliersi cosa mangiare mentre tu disponi di infinite distese di campi fioriti ci vuole un coraggio immenso ad accogliere la vita per quello che è fermarti e dirti che non sei insignificante cominciare a rispettarsi e a volersi un po bene lo so sono una farfalla e non potrò mai essere toccato da nessuno ma il prezzo da pagare per essere liberi impari a posarti solo dove sei accolto lasciando che ammirino la tua bellezza mi viene da piangere ripensando al male che mi sono fatto con le mie stesse mani sai nessuno mi ha mai ferito volontariamente sono stati incidenti incuranze che potevo prevedere eppure ero disposto a patirle pur di essere amato ma un ragno potrà amare una farfalla solo col suo stomaco ho provato una grande liberazione vedendo come gli altri fossero il nostro specchio ciò che gli condannavi era lo stesso male che t'affliggevi ti amareggiavi solo perché ti veniva sbattuta in faccia la tua stessa ombra ed era troppo duro da riconoscere che trattavi con la stessa non curanza i tuoi bisogni non ti ascoltavi non ti rispettavi e quel ragno che tanto ti ammaliava con quel fascino bello e dannato ora lo guardi con gratitudine hai sempre saputo che non aveva alcuna responsabilità non era compito suo di renderti completo hai fatto tutto da solo e ringrazi che ti abbia insegnato ad amarti nel modo brutale di ragni perché loro sono fatti così non c'è più ragione di condannare la mia fragilità o di dipingere le mie ali di nero poiché odio i miei colori chi mai potrebbe amare una farfalla che brucia le sue ali perde proprio ciò che la rende magnifica ci vuole molto coraggio per incominciare ad amarsi ma ce ne vuole molto di più a staccarsi le proprie ali e rinunciare a volare per sempre grazie a tutti grazie a tutti